Estate sicura a Monte Corvino Rovella e questo è il nome del progetto approvato dalla Giunta Comunale con apposita delibera per l'incremento della vigilanza sul territorio nella stagione estiva. Il progetto in questione si pone l'obiettivo di tutelare maggiormente i luoghi di aggregazione sociale e di far rispettare al meglio le norme in materia di circolazione stradale. Il potenziamento del servizio di controllo prevede l'assunzione a tempo determinato di tre agenti di polizia locale e si focalizzerà soprattutto nelle ore searali e notturne con particolare riferimento alla fascia di orario che va dalle 18 alle 24.